Musica Ormai quasi alle battute finali in questo forum italo-congulese incontriamo Dino Bruni che ci racconta un po' l'esperienza, che è un'esperienza fatta non solo di business, quindi di incontri ma anche un'esperienza diciamo emozionante per certi versi Esattamente, è proprio quello che ho trovato qua, quindi qui abbiamo vissuto il momento e non sembrava di essere a Roma, ma di essere Gianni Ecco è stato meraviglioso incontrare le persone e sentire il loro cuore, il loro affetto, la loro vicinanza e questo ha consentito sì di fare degli scaldi economici e commerciali ma prima di tutto c'è stato un ricambio emotivo, emozionale che è quello, la base per rafforzare i nostri rapporti con le persone Grazie 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 Grazie